A te leggiamo il canto, perché dell'alme fervide, in giunga il mio sospir, perché dell'alme fervide, in giunga il mio sospir. Anche la luce fulgita, che ti rivolse il seno, per il libero. È stato bellissimo, perché ognuno ha partecipato, nell'insieme è stato generoso, solo che il tempo non è stato tanto clemente, infatti abbiamo fatto una brevissima processione, proprio per dare l'essenza alla festa. Comunque noi ci siamo prodigati, con mia cugina, e abbiamo fatto una bella manifestazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.